Contrariamente a quanto pensano in molti Beati monocoli in terra cecorum Beati coloro che hanno un occhio solo nella terra dei ciechi Perché? Commento La frase ci aiuta a consolarci pensando a chi sta peggio di noi A sopportare le difficoltà della condizione umana che, contrariamente a quanto pensano in molti Nella scala evolutiva universale appartiene alla bassa evoluzione